Buongiorno, 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 continueremo tutti insieme a combattere questa battaglia di democrazia e di libertà e tutti insieme riusciremo a vincere e a cambiare il nostro paese facendolo diventare un paese dove i cittadini non abbiano paura di trovarsi senza colpa in carcere, di vedere calpestata la propria esistenza e la propria libertà. A tutti voi un grande abbraccio, grazie ancora di cuore, negli anni che ancora mi restano non dimenticherò mai questa giornata e questo vostro abbraccio. Grazie, 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 grazie.